Buonasera a tutti, buonasera Presidente. Pochi minuti per dire una cosa chiara in limine che nessuno qui contesta la giurisprudenza di questa illustrissima corte relativa all'obbligo vaccinale come è venuta articolandosi negli anni. Quello che si contesta qui è l'obbligo di questo particolare vaccino, un vaccino che per le modalità innovative del profarmaco che viene reso obbligatorio, per le conseguenze non banali, ormai abbiamo purtroppo 29 morti accertate e soprattutto per la natura sciatta, poco articolata e poco razionale dei provvedimenti all'interno dei quali è stato introdotto, portatore di parecchi casi di contraddizioni interne, diventa davvero contrario rispetto a quella che è la giurisprudenza stabilita. La giurisprudenza di questa corte è stata costruita negli anni partecipando a un concerto fra corti costituzionali di tutto il mondo, il famoso dialogo fra le corti, un concerto che ha raggiunto una saggezza legata alla tradizione giuridico occidentale, condivisa da moltissime corti, in ultimo ancora dalla Corte Suprema Indiana, dal Tribunale Supremo Spagnolo e addirittura dal Consiglio di Stato greco che come si sa ha potere concentrato di controllo di costituzionalità delle leggi, ribadendo sostanzialmente ciò che risulta anche da quella bella raccolta che in era pre-Covid fece la Corte Costituzionale, raggiungendo diciamo alcuni punti comuni alla Western Legal Tradition. Ora, in questo ambito, grazie alla saggezza del Presidente Merito Giuliano Amato, siamo arrivati a decidere con un certo ritardo rispetto all'inizio della pandemia, un tempo che ha prodotto da un lato dei problemi ma dall'altro l'ha consentito di fiorire a diversi voci. Noi abbiamo visto un po' di tutto, abbiamo visto delle decisioni come quelle del Consiglio di Stato che sono favorevolissime, quelle italiane che sono favorevolissime al mantenimento dell'obbligo, sebbene in una condizione di conoscenza diversa da quella attuale, era arrivato addirittura in qualche modo a sovvertire il principio di precauzione. Altre Corti si sono comportate diversamente, qualcuno ha sollevato la questione a livello europeo, qualcuno ha portato la questione qui in Corte, insomma si è creato un vero e proprio pluralismo. Pluralismo che tutto sommato deve a questo punto essere in qualche modo portato ad unità perché il pericolo se no è che la giurisprudenza sia subomine e non sublegge, perché dipende poi da chi incontri come giudice per vedere quello che ti succede. Oggi siamo anche in una condizione particolarmente fortunata per decidere perché la materia del contendere è sfumata, è stata sfumata dalla decisione politica del governo in corso di riammettere le persone che erano state sospese. Decisione politica che sicuramente toglie di mezzo parecchia drammaticità anche perché diverse Corti inferiori hanno riconosciuto l'assegno alimentare ovviando diciamo le sofferenze più dure che questo regime aveva comportato. Quindi in questo caso si potrebbe perfino arrivare a ipotizzare che l'oggetto del contendere sia mutato. Si potrebbe addirittura immaginare che questa Corte potesse percorrere la strada è già percorsa anche sull'ergastolo stativo recentemente, che è quella di dire che sulla mantenuta rilevanza la decisione non spetta alla Corte Costituzionale ma spetta al giudice a quo. Non di meno, sebbene noi sappiamo bene che l'arte del tacere sia meglio per le Corti Costituzionali piuttosto che addentrarsi in un overruling privo di principi, io credo che si debba mantenere ferma la bussola della Costituzionalità e si debba in qualche modo cercare di raggiungere una decisione che tenga conto di un punto molto importante, un punto che è contenuto peraltro nell'articolo 28 della legge istitutiva della Corte Costituzionale per cui una declaratoria di incostituzionalità non può mai essere letta come critica politica a quello che è stato fatto precedentemente. In altre parole non si tratta di criticare ciò che in condizioni diverse fu deciso dai precedenti governi o dal Presidente della Repubblica che fece passare questi decreti, ma si tratta di vedere se data l'attuale situazione delle nostre conoscenze che sono cambiate ed evolute si possa arrivare a ribadire quella saggia giurisprudenza di merito che è stata consolidata nel tempo. Quella giurisprudenza che dice sostanzialmente che il beneficio deve essere per la persona sottoposta all'obbligo e soprattutto che ci deve essere una ragione di salute pubblica che evidentemente non è garantita, oggi lo sappiamo bene, semplicemente dalla profilassi vaccinale perché il vaccino purtroppo non interrompe la catena del contagio. Questo è stato detto più volte. Ci sono davvero diverse posizioni anche all'interno del dialogo fra le corti che dicono una cosa molto importante, che hard cases make bad law, all'ilà di quelle che sono le perplessità di Lord Henning su questo punto. È chiaro che queste norme del DL44 sono state fatte in una situazione, in un clima di emergenza, di paura, che non poteva certamente produrre delle belle leggi. Ma un altro grande protagonista delle corti moderni, Justice Barak della Corte Suprema israeliana, che è abituato a decidere in ben altre temperie dal punto di vista emergenziale, ha sempre detto come altri, che è proprio nei momenti dell'emergenza che è assolutamente essenziale che la Corte mantenga la barra dritta. Perché anche di fronte all'inconoscibile, anche di fronte al dubbio che per forza ci attanaglia tutti quanti rispetto a queste questioni, per noi giuristi nel qualche certezza resta. E questa è la certezza dei diritti e del diritto, che va salvaguardata da questa Corte attraverso una soluzione che sia, come dire, prudente e legata, diciamo, ai propri precedenti. Che dire a questo punto? Le nostre OS, le nostre clienti vogliono essere valutate alla luce di quei principi. Hanno scelto di non vaccinarsi, hanno esercitato quello che è un diritto loro fondamentale di libertà e di scelta, hanno esercitato quel diritto all'interno di un quadro che non ha un impatto esterno e quindi devono essere trattate come tutti gli altri cittadini. Cioè con un principio di uguaglianza di fronte alla legge che fa sì che tanto il vaccinato quanto il non vaccinato, che sono, se ci pensate bene, al senso dell'articolo 3 della Costituzione, proprio discriminati per opinioni politiche e condizioni personali e sociali, fra le varie discriminazioni che sono indicate nella Corte, poi sappiamo che le carte internazionali sono piene di questi linguaggi, la nostra Corte prevede proprio l'opinione politica e la condizione personale. Allora l'opinione politica io credo che queste persone se la siano formata informandosi liberamente decidendo di non prestare il consenso e la condizione è quella di non vaccinato, una condizione che non può giustificare in alcun modo la discriminazione. E quindi di fronte diciamo a questo, io direi che questa Corte si trova anche in una posizione particolarmente favorevole e ancora nella mente sempre la letteratura anglo-americana, pensate a Hart and Sachs, un legal process, la Corte Suprema è portatrice di un livello di indipendenza, è portatrice di un livello di isolamento rispetto alle pressioni esterne e portatrice anche di una conoscenza delle opinioni anche autorevolissime dei suoi membri che le consentono di operare in un modo più libero rispetto a quelle che sono altre agenzie che possono essere invece, come dire, più facilmente catturate dai poteri privati. E allora alla luce proprio di questa posizione io credo che questa Corte abbia di fronte a sé una grande opportunità per ribadire quei principi che sono stati stabiliti e può farlo in realtà in tre modi. Può farlo come piacerebbe naturalmente a molti di noi con una sentenza di accoglimento dei tanti profili di incostituzionalità che sono stati discussi da questa mattina ad oggi, in particolare quello che chiamerò la condizionalità vaccinale, per non chiamarlo ricatto vaccinale, ma insomma quello è un profilo di costituzionalità legato al diritto del lavoro molto importante. Può farlo in un altro modo che potrebbe anche essere quello di fare una sentenza manipolativa di rigetto che semplicemente dica e che spieghi che bisogna recuperare un minimo di razionalità interna rispetto alle norme e che la discriminazione che si basi sull'assunto per cui il vaccino rompe la catena del contagio, perché guardate che è proprio questa la questione che imballo, se ragioniamo sul fatto che il vaccino non rompe la catena del contagio, allora possiamo ragionare dicendo che la solidarietà non c'entra nulla. Che chi si vaccina, che magari l'aveva fatto pure in buona fede, pensando di farlo per gli altri, in realtà al più oggi lo fa per se stesso. Questo è un punto di grande importanza, perché se invece continuiamo a pensare, a ragionare come se vaccinarsi fosse un atto di altruismo, perché rompe la catena del contagio, e non cadiamo per favore nell'errore di far entrare elementi utilitaristici in questo genere di discorsi, perché sarebbe un grave errore quello di ragionare in modo troppo lontano e troppo disconnesso, ledendo in qualche modo la libertà personale, soprattutto la dignità della persona che viene privata della possibilità di autodeterminazione sulla base del fatto che magari sono occupate le terapie intensive o altre cose di questo genere. Questo introduce dei principi che nulla hanno a che fare quella tradizione di quel liberalismo democratico, di cui le corte costituzionali sono il supremo garante. Stare decisis et quieta non muovere. Ribadiamo i principi saggi di una giurisprudenza internazionale che recepisce tante carte internazionali, la carta di Nuremberg, la carta di Oviedo, e poi ancora Nizza, e poi la CEDU, cioè tutte carte che dicono sostanzialmente che sui diritti i diritti vanno presi sul serio. Ribadiamo che i diritti vanno presi sul serio, ribadiamo che il principio lavoristico del nostro sistema fonda in una specie di forma di drittwirkung la possibilità di dare almeno il sussidio a queste persone che sono state allontanate e facciamo una decisione che ribadisce questo. Nella forma che si crede può anche essere la forma di una semplice ordinanza di rinvio al giudice a quo, ma con una direttiva e con una direzione. La giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana è una buona giurisprudenza e coerente con la giurisprudenza della tradizione giuridico occidentale non può essere abbandonata per nessuna ragione emergenziale e se la si abbandona in emergenza occorre al più presto ristabilirla. Vi ringrazio molto.